Un panel il nostro che partiva da presupposti molto business ma nel frattempo è evoluto perché seguendo anche i lavori di questa mattina i mondi del travel sembrano piano piano avvicinarsi quindi quello che era solo corporate non solo non è sparito come qualcuno pensava ma è diventato molto più simile anche alle abitudini che ci portiamo a casa tutti i giorni. Personalmente ritengo che un benchmark sul 2019 sia oggi un benchmark puramente storico ma lo chiederemo poi ai nostri interlocutori se veramente possa ancora significare qualcosa oppure se è un dato da mettere nel cassetto e avere iniziato una nuova era del travel. Era del travel diverso perché le abitudini sono cambiate e queste abitudini che tutti noi nella quotidianità abbiamo modificato questo essere più vicini alla parte digitale perché è quella che ci ha consentito di rimanere in contatto per due lunghissimi anni e ancora continua a essere molto presente nella nostra vita perché spesso invece di fare una telefonata facciamo una videoconference. videoconference quindi è cambiato quello e sono cambiate le modalità le modalità che vedono proprio in una facilitazione all'accesso ai servizi una leva importante ma di tutto questo poi parleremo molto meglio con loro. e a questo punto io non vi rubo tempo perché i nostri panelist sono molti e hanno cose molto interessanti da dire partirei da Corrado Soda che ha un osservatorio e al quale vorrei chiedere come sta andando la ripresa e se avete avuto differenze di risposta nei vostri target se qualche cosa è stato lineare oppure se ci sono ancora delle disruption all'interno di questa ripresa. Bene grazie innanzitutto buon pomeriggio a tutti grazie dell'invito grazie anche di aver catturato nella domanda un po' un elemento chiave perché rispetto alla ripresa non tutte le aziende hanno corso e hanno ripreso allo stesso modo e diciamo non vado a descrivere quelle che sono le differenze per l'industria perché sarebbe troppo banale abbiamo delle industrie che chiaramente hanno avuto una ripresa più forte rispetto a altre strutturalmente però ecco l'elemento chiave su cui vorrei soffermarmi è la dimensione quindi vorrei distinguere quello che è stata la ripresa delle small e medium enterprise rispetto alle large avendo un osservatorio globale che va da le più piccole alle più grandi noi cosa abbiamo visto nel corso del 2022 soprattutto nella prima fase di quest'anno abbiamo visto innanzitutto una crescita accelerata delle small e medium enterprise nel corpo del travel e questo è dovuto a una serie di fattori il primo lo sentivamo anche stamattina cioè il mercato di riferimento di una small e medium enterprise in termini di sia clientela sia di supply chain quindi di fornitura è un mercato mediamente come dire più domestico continentale rispetto a quello delle large e quindi è chiaro sappiamo che abbiamo ancora delle chiusure ne parlavamo stamattina pensiamo all'asia le small e medium enterprise sono riuscite a recuperare più facilmente delle large proprio per queste limitazioni sulle large nella prima parte dell'anno il secondo elemento è una catena decisionale cioè immaginate noi possiamo essere un esempio di large le nostre policy sul corpo del travel come American Express nonostante facciamo questo mestiere nella prima parte dell'anno erano ancora come dire un mix un ibrido tra il pre pandemia e la pandemia quindi le small e medium enterprise non hanno avuto questo problema perché la catena decisionale è così snella che hanno adottato nuovamente le policy del post pandemia il terzo elemento è quello dello smart working quindi nelle small e medium enterprise è chiaro che durante la pandemia è stato adottato così come nelle large però mentre le large hanno fatto degli investimenti strutturali e vediamo anche delle policy che in qualche modo sono rimaste post pandemia nelle PMI questo non è accaduto o comunque è accaduto mediamente di meno ecco per dare un dato a conferma di quanto vi ho raccontato guardando il nostro portafoglio quindi quello American Express delle piccole e medie imprese in Italia da gennaio a settembre il 30% delle piccole e medie imprese è cresciuto sul corpo del travel più del 30% quindi delle PMI sono cresciute in corpo del travel rispetto al 2019 quindi questo è un dato che anche a noi ha stupito e devo dire nel forecast che avevamo fatto non ci aspettavamo una ripresa così forte poi a livello globale chiudo vorrei condividere un dato pubblico che il nostro CEO Sisquery ha condiviso con gli analisti nell'ultima conference call di novembre quindi del terzo Q 2022 quindi un dato globale sul corpo del travel, il commercial T&E, quello che chiamiamo il billing, la spesa delle aziende quindi dalle small e medium enterprise fino alle large ebbene a livello globale per American Express questo se paragonato all'anno scorso è cresciuto più del 70% però il dato non è così rilevante rispetto all'anno scorso se lo guardiamo rispetto al 2019 è meno 10% quindi ancora siamo sotto il 2019 ma siamo lì, siamo quasi alla parity del 2019 quindi questo è un dato molto confortante perché immaginate in un dato globale abbiamo tanto corporate travel di large e global quindi ci aspettiamo sull'anno prossimo un rientro e una parity e anche di superare il 2019 Possiamo pensare che questa ripresa delle piccole e medie imprese sia anche perché sono più avvezze a un rapporto personale quindi forse meno a parametrarsi con la parte digital il rapporto sempre che esista ancora una policy in queste piccole aziende dove a volte c'è solo un titolare e qualche dipendente il rapporto è più umano e più umano hanno voluto conservarlo anche nei viaggi Assolutamente, assolutamente lo vediamo anche nella parte esperenziale che poi in maggio tratteremo dopo però sicuramente c'è questo rapporto umano che in realtà abbiamo un po' meno perché non abbiamo nelle piccole, parlo delle piccole, una figura così forte del travel manager come abbiamo sulle large company quindi è sempre presente, è importante insieme all'agenzia ma c'è sicuramente maggiore flessibilità sulle piccole e medie imprese Damiano Sabatino questi ultimi due anni dicevamo ci hanno reso più abbezzi anche all'e-commerce l'e-commerce ci ha in qualche modo tenuto in contatto con le cose che ci servivano, con i bisogni questa familiarità si estende anche ai viaggi la necessità è che diventino un po' più acquistabili in modo più snello? Sì, innanzitutto buon pomeriggio e a volte ritornano sicuramente sì, il dato di partenza che io tengo presente quando si affrontano questi temi di progresso tecnologico di digitalizzazione è che l'industria dei viaggi effettivamente è stato il precursore dell'e-commerce quindi il viaggio per definizione è qualcosa di smaterializzato dal punto di vista della vendita quindi è il bene, il servizio che più si adatta a questa modalità online quindi tutti qui nella filiera a partire dai fornitori ma anche i distributori di piattaforme hanno chiaramente mosso i primi passi da 40 anni nel campo delle vendite online nell'e-commerce la realtà è che la velocità di evoluzione, il tasso di evoluzione è in realtà più lento è stato più lento rispetto a quello di altri settori e il Covid non ha fatto altro che acquire questa differenza veniamo da un periodo in cui i nonni vanno su Zoom abbiamo fatto tutto l'anno, abbiamo fatto cene virtuali ognuno mangiava a casa sua e ci parlavamo su Whatsapp o su Skype quindi diciamo che è cambiata moltissimo la dimestichezza del consumatore medio quindi anche di chi viaggia ovviamente con certi strumenti di tecnologia da un lato è positivo perché il grado di alfabetizzazione tecnologica è aumentato quindi si è allargata la platea di chi può usare dei tool più moderni dall'altro chi non ha investito, progredito potrebbe trovarsi indietro da un punto di vista esperienziale noi ho citato prima nel giro di domande precedenti le ricerche di mercato che noi effettuiamo da un punto di vista di esperienza di acquisto online comparato ad altri settori merceologici quello del travel non è neanche sul podio non rientra neanche nei primi tre come gradimento per il consumatore siamo addirittura dopo finanza e banking quindi comunque settori che tradizionalmente erano molto rigidi con una certa difficoltà di approccio hanno invece in termini di esperienza fatto dei passi avanti enormi e questo è un dato da tenere presente che tutta la filiera deve tenere presente quindi a partire da fornitori, distributori, piattaforme e questo è un qualcosa che va che impatta i vari canali del travel non è soltanto un fenomeno di leisure perché quando si pensa al consumatore si pensa appunto al turista ma è anche un elemento che si ritrova anche nel business travel per quanto riguarda l'uso dell'online dalla nostra ricerca risulta che sostanzialmente circa il 45% di chi ha usato un'agenzia di viaggio non si ricorda neanche qual è online e che un terzo del campione è soddisfatto dell'esperienza un terzo è molto insoddisfatto e un terzo neanche in grado di dirlo però la buona notizia è che chi si ricorda chi ha memoria dell'agenzia che ha utilizzato di solito ha avuto un'esperienza migliore e questo vuol dire che il brand e la fidelizzazione ovviamente apporta dei vantaggi sul business travel i dati sono abbastanza sconfortanti almeno in certi mercati se parliamo del mercato nordamericano pare che soltanto una persona su 100 si ricordi qual è il suo fornitore di viaggi la maggior parte pensa che sia Google quindi questo vuol dire che l'esperienza di fruizione l'esperienza di prenotazione di un viaggio all'interno dell'azienda è in media abbastanza carente diciamo che ho dei dati almeno il 78% dei viaggiatori d'affari è comunque soggetto in senso buono a una travel policy ma l'89% cerca di aggirarla perché comunque non ha dall'interfaccia che si trova usare o dal proprio partner non ha il tipo di scelta il tipo di risposta che gli servono per affrontare il viaggio d'affari e in quel caso l'opzione più ovvia è di non viaggiare e fare uno zoom, un webex eccetera quindi comunque il gap esperienziale può portare a minori vendite comunque a minori volumi che è un tema che se non è la filiera la buona notizia è che con la tecnologia si può risolvere quindi insomma abbiamo una luce in fondo al tunnel quindi una brand awareness un pochino bassa però manca anche il prodotto perché siamo in ripresa a questo punto chiedo conforto a Tommaso Fumelli sicuramente i cieli sono meno ingorgati di prima della pandemia funziona si funziona e c'è uno scenario di pricing che è stato anche abbastanza problematico negli ultimi mesi ci fai uno scenario passiamo dalla tecnologia al prodotto perché alla fine lì si va a parare come lo vedi? Buon pomeriggio a tutti sì diciamo che quest'anno è stato un anno decisamente particolare abbiamo iniziato con forti preoccupazioni un primo trimestre su cui pesavano le incertezze di uno scenario pandemico il conflitto in Ucraina l'aumento dei costi di carburante per cui sicuramente le premesse non erano delle migliori poi c'è stato un rimbalzo un rimbalzo forte che è iniziato a primavera ha avuto il suo boom in estate con una esplosione della domanda di viaggi e sicuramente qualche attore della filiera si è trovato impreparato per cui una forte forte domanda un'offerta che in quel momento non era dimensionata forse con con la domanda del mercato beh noi come aziende essendo un'azienda nuova abbiamo iniziato un anno fa abbiamo festeggiato il primo anno di attività il 15 di ottobre del 2022 siamo partiti dimensionati e forse anche questo nostro dimensionamento è riuscito ad assicurare una copertura operativa un'attenzione al cliente anche nei momenti di alta stagione e devo dire questo è un merito anche del sistema Italia forse le strutture aeroportuali negli hub quindi a Roma a Milano hanno retto i picchi di alta stagione cosa che invece non è accaduta in altre realtà diciamo del nord Europa insomma con fatti che abbiamo visto tutti per cui per noi è stato un anno importante non facile perché un anno di start up un anno dove abbiamo consolidato numeri diciamo decisamente di alto livello abbiamo trasportato più di 9 milioni di passeggeri abbiamo ampliato la flotta siamo partiti con 52 aeromobili oggi ne abbiamo 70 abbiamo introdotto aeromobili di ultima generazione 6 Airbus 350 4 Airbus 220 per cui in linea con quello che era il piano di sviluppo un piano sostenibile e questo è diciamo l'elemento centrale del nostro del nostro piano industriale e crediamo fortemente anche in quello che sarà la potenzialità del prossimo anno dobbiamo farlo in maniera attenta abbiamo ovviamente in previsione un aumento di flotta importante anche per il prossimo anno cosa che dà fiducia abbiamo 39 aeromobili che dovranno essere consegnati nell'arco del 2023 anche qui uno snellimento di flotta abbiamo come obiettivo quello di essere la flotta più green d'Europa da qui al 2026 nell'arco di piano con l'80% di aeromobili di ultima generazione per cui tornando alla domanda sì c'è sicuramente un contesto che non dà certezze ma è un contesto anche nel quale i compagnieri devono investire perché sicuramente siamo un attore importante in questa filiera una crisi quella di quest'estate che non ha però riguardato solo le compagnie perché c'erano i servizi di handling c'è stato c'è stato un collasso globale del settore quindi diciamo una responsabilità condivisa e forse anche dettata da una carenza di personale strutturale proprio globale quindi secondo me tante cose da rimettere a posto assolutamente il tema dello staffing è un tema centrale oggi nelle aziende nel trasporto ma non solo diciamo che il sistema italia ha retto meglio di altre realtà europee questo diciamo ci dà ci dà credito però deve anche suonare un campanello di allarme in senso dobbiamo essere preparati perché sicuramente la domanda ritornerà a livelli diciamo di normalità dopo l'uragano di covid e dobbiamo essere pronti tutti in questo senso tutta la filiera deve essere organizzata per questo noi ci siamo ripeto un piano di crescita che deve abbiamo da qui al 226 sostenibile strutturato ma faremo sicuramente la nostra parte ha toccato il termine Gabriele Rispoli della filiera il travel è una filiera complessa è una filiera con attori molto diversi quindi è da riportare tutta sotto un unico diciamo cappello per poter funzionare correttamente quali sono secondo lei i principali elementi in termini di supporto forniti alle agenzie alle TMC nel caso di business travel Buon pomeriggio la filiera anche prima della pandemia non era molto connessa interconnessa ma sicuramente con a partire diciamo dalla pandemia ci sono state situazioni che hanno messo nelle condizioni le TMC le agenzie di business travel di far fronte o a situazioni nuove o a situazioni che si erano già presentate in passato ma non con la stessa incidenza e non con la stessa preponderanza e importanza nel rapporto tra viaggiatore azienda e TMC e questo perché ho anche diciamo situazioni in cui di controtendenza ultimamente parlando con alcune agenzie di viaggio c'era fuori il tema dei viaggiatori che vanno un pochino più rispetto a quella che era la tendenza premandemia sull'offline come se cercassero nel contatto diretto con l'operatore quasi un conforto una rassicurazione per il viaggio dopo un periodo in cui era stato molto complicato per cui per andare a descrivere quali possono essere gli ambiti di maggiore supporto per l'agenzia di viaggio voglio riferirmi a quello di cui avevo appena accennato rispetto a quello all'esperienza dell'estate e quello che viene subito in mente soprattutto nell'estate diciamo nel periodo 2020 inizio 2021 è stata la fase di ricerca di prenotazione che per l'agenzia di viaggio era diventata una situazione molto più complessa perché quindi la necessità di avere in un unico ambiente la disponibilità di informazioni facili e veloci in una maniera aggregata in modo da poter rispondere in maniera efficiente a un viaggiatore che ha necessità di tutta una serie di informazioni e di rassicurazione prima di partire in questo sicuramente la tecnologia ha potuto dare un supporto rilevante importante sia dal punto di vista quantitativo per ridurre i tempi le TMC parlavano di un tempo che si era moltiplicato in maniera esponenziale nei tempi di ricerca di prenotazione solo per recuperare tutte le informazioni per i diversi paesi in tema di norme sanitarie di ingresso di uscita visti informazioni che cambiavano in continuazione e che erano diverse da paese in paese quindi tecnologia che ha aiutato dal punto di vista quantitativo tecnologia che ha aiutato dal punto di vista qualitativo per fornire un miglior supporto all'agenzia di viaggio e anche sempre dal punto di vista quantitativo per far fronte a quello che il collega accennava rispetto allo staffing che anche quello è un fenomeno nuovo che si è presentato all'interno del travel nel corso degli ultimi mesi andando avanti sempre parlando di esperienza diretta e delle possibilità di supporto alle agenzie di business travel c'è anche il tema di tutti gli interventi o di tutte le necessità che si sono create per le disruption create all'interno del settore del trasporto aereo a cui si accennava prima in estate dalla parte aeroportuale dalla parte di scioperi cancellazioni cambi volo schedule change tutta una serie di situazioni che hanno determinato uno sforzo importante da parte dell'agenzia di viaggio nella parte prettamente operativa anche qui attraverso la tecnologia e più precisamente attraverso situazioni di automazione di robotica si è potuto andare ad intervenire su attività che avevano una grossa complessità soprattutto molto dispendiosa a livello di tempo attraverso l'automazione tutto questo per dare la possibilità all'agenzia di viaggio di concentrare le risorse su attività a maggior valore aggiunto nei confronti del viaggiatore e del cliente questo internamente per l'operatività ma anche esternamente per gli interventi dal punto di vista di supporto al viaggiatore in queste situazioni di disruption durante il viaggio anche qui il supporto della tecnologia all'ATMC nei sistemi di duty of care sistemi di duty of care avanzati che consentono la possibilità non solo di intervenire tempestivamente ma anche di essere sempre in contatto con il viaggiatore attraverso geolocalizzazione o la comunicazione diretta del viaggiatore nei momenti diciamo che caratterizzano il suo itinerario attraverso tutti i canali compreso quello mobile che è quello che diciamo che offre dal punto di vista del viaggiatore la possibilità più continua o continuativa di connessione quindi gli ambiti sono tanti di supporto dalla parte più operativa quindi interna alla parte di relazione col cliente ma tecnologia e innovazione fondamentali per la nuova situazione che si è andata a creare nel mondo del travel tecnologia e automazione fondamentali quindi in agenzia sulla scrivania del travel manager Paola De Filippo però ti chiedo una provocazione perché sembra tutto bellissimo ma ci sono delle criticità non è tutto così liscio a te ma se fosse tutto così liscio finirebbe il divertimento siamo qui anche per quello ed è la tecnologia che supporta nel rendere tutto un po' più liscio allora partiamo dal presupposto che il travel manager è una people person è una persona che ha a che fare con altre persone e che si occupa di gestire le crisi ad esempio in modo calmo ed efficiente il viaggiatore è indubbiamente cambiato sono cambiate le sue aspettative le sue conoscenze il modo di viaggiare è quello che ci si aspetta dalla travel experience quindi il viaggiatore di oggi è indubbiamente un viaggiatore più esperto più consapevole ma che ricerca anche una una sicurezza una un'attenzione una velocità nelle risposte e nelle informazioni che gli vengono che gli vengono fornite in questo senso è il il travel manager che ha l'opportunità di essere l'esperto che dà questo supporto abbiamo fatto un sondaggio verso la la fine del 2021 e circa 10.000 viaggiatori globali hanno affermato che il servizio clienti l'assistenza clienti per loro è una una caratteristica fondamentale con questo però incredibilmente ci rendiamo conto che il 70% del tempo che un travel manager un agente di viaggio passa lavorando lo passa in attività manuali e ripetitive forse anche un po' noiose e questa noia può anche generare errore umano in alcuni casi quello che la tecnologia può può fare deve fare quello che in quanto partner tecnologici noi forniamo è proprio la possibilità di automatizzare tutti questi processi tutte queste attività così così ripetitive conosciamo molto bene prodotti come auto exchange la possibilità di una manutenzione di quelli che sono i cambiamenti fatti anche dalla compagnia aerea direttamente all'interno della peronovazione e questo si sta evolvendo si sta evolvendo grazie anche alla intelligenza artificiale grazie nel nostro caso alla partnership con google visto che come diceva il collega molti viaggiatori pensano di prenotare su google ma google in questo senso ha unito un po' le forze con sevor nel senso che noi abbiamo noi forniamo tutta la nostra expertise la nostra tecnologia la nostra esperienza del travel e loro ci supportano nella loro esperienza nelle neuroconoscenze del cloud e della e dell'intelligenza artificiale del machine learning che ci permette di capire e di personalizzare quelle che sono le necessità del viaggiatore tutte queste automatizzazioni però fanno un po' preoccupare a volte perché mi viene chiesto spesso ma quindi qualcun altro o qualcos'altro farà il mio lavoro io che farò in realtà sappiamo che effettivamente 85 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni probabilmente andranno a sparire perché ci saranno delle macchine che faranno queste attività ripetitive ma grazie alla robotizzazione si genereranno 97 milioni di posti di lavoro che saranno posti di lavoro con una richiesta di intelligenza umana di conoscenza e un livello di alfabetizzazione ben diverso rispetto a quello che può fornire una macchina quindi vediamo un attimino dove ci porterà la tecnologia nel supporto appunto delle persone quindi adelante con ruizio insomma prima la vera sfida è il fattore tempo Paola il tempo nel senso come utilizzi questo tempo e il tempo di risposta gioca su quello il futuro in realtà il tempo è importante perché il tempo non torna è importante come lo investiamo questo tempo e quello che l'essere umano può fare è metterci il cuore l'anima quindi non è solo questione di tempo ma è anche questione del come abbiamo bisogno di relazioni abbiamo bisogno di tempo per lavorare su queste relazioni per lavorare su quello che è il servizio al cliente e al viaggiatore per lavorare su quelle che sono le strategie delle aziende per cui ognuno di noi lavora appunto e queste sono cose che solo un essere umano può fare quindi è importante alleggerire il tempo passato a fare cose noiose ripetitive non necessarie o meglio che non necessitino il tocco umano perché la persona possa concretizzare su ciò che è importante e fare altro fare altro aggiungerei a quello che tu parlo su cui concordo che il tempo di risposta è importante la cosa che noi abbiamo rilevato essere fondamentale è la qualità della risposta cioè in altre parole per essere concreti la personalizzazione cioè quando abbiamo parlato appunto di intelligenza artificiale di big data machine learning tutto quello serve a fare in modo che in base all'algoritmo che ha studiato il profilo di quel particolare individuo è di n come lui o come lei possa poi dare la risposta più giusta a quella esigenza di viaggio di itinerario di spostamento quindi la velocità è importante nessuno vuole stare due minuti vedere una rotella che gira però è ancora più importante la qualità della risposta che si dà e questo si riesce a fare grazie appunto a partner come Google Amazon Web Services nel nostro caso quindi con infrastrutture che consentano la gestione di grandissime mole di dati grazie la qualità peraltro parlavamo di risposte ma la qualità è l'argomento nodale di quello che è il travel di oggi e di domani il lack è stato nella qualità anche in questo anno di ripresa molti hanno lamentato questo a questo punto io passo sulla scrivania del travel manager o perlomeno dell'ufficio del travel manager io sintetizzo con travel manager ma oramai sono strutture complesse Antonio Ceschia con che cosa vi confrontate oggi qual è il lascito della pandemia e soprattutto quali gli aspetti che hanno subito variazioni o che subiranno variazioni allora beh innanzitutto voglio fare una una premessa questa cosa pensando a tutti gli interventi della giornata no nella pandemia abbiamo avuto una piccola fortuna secondo me che è durata almeno due anni perché dico questo perché ho trovato una forte consapevolezza che il mondo è cambiato non ci stiamo più confrontando con modelli prepandemici modelli di viaggio che erano i classici modelli che come mostrava stamattina nel video emozionale Luca Patanè dal 2003 in poi erano sempre un anno uguale all'altro con grandi successi con grandi cose con grandi elementi che ci davano qualche preoccupazione ma anche tante soddisfazioni partire da questo fatto che il mondo è cambiato è il primo paradigma per affrontare il futuro oggi ho visto qui tante idee molto chiare una cosa che abbiamo però capito è che dobbiamo ancora dargli un vero ordine complessivo per costruire quello che è il business travel del futuro io parlo da persona che gestisce un business travel allargato quindi non solo le attività di agenzia ma anche una flotta aziendale molto importante anche elementi di housing che hanno numeri che riflettono quelli che sono i numeri del primo datore di lavoro privato italiano come è intesa San Paolo gli elementi che ci portiamo dietro allora ce ne sono tanti prendiamo quelli più caratterizzanti innanzitutto le tecnologie le tecnologie fino al 2019 erano tecnologie di comunicazione semplici poco usate tante volte malfunzionanti non che in certi casi oggi sia migliorata ma comunque le tecnologie sono state un fattore abilitante del poter continuare virtualmente a muoversi durante la pandemia e poter continuare a sostenere quello che era il business e tutti gli elementi economici che in una filiera hanno necessità di legarsi tra di loro e questo potrebbe essere un problema oggi nel mondo dei viaggi fortunatamente c'è da dire che siccome ci sono i cicli nell'economia questo momento qua coincide con la crisi delle big tech cosa ha detto il fondatore di Meta Zurkenberg ha detto scusate mi ero sbagliato non è vero che le persone vogliono andare verso un universo virtuale le persone hanno bisogno di tornarsi a trovare dico per Massimo è un momento di fortuna perché potreva essere il momento in cui le big tech davano la spallata a questo mondo perché io parlo di business travel non di leisure che chiaramente ha altri tipi di parametri e di necessità anche se durante la pandemia anche nel leisure sono cominciati i viaggi virtuali fatti al computer dove c'erano i musei che si aprivano le persone che erano rinchiusi in casa ecco questa crisi delle big tech ci aiuta e il mondo verso sto un po' parafrasando addolcendo i termini coloriti che in un suo tiktok ha descritto Marco Montemagno dove ha detto questo qui è un mondo verso un po' fangoso io lo chiamo lilliput sarà capitato anche voi anche oggi magari dove avete conosciuto per la prima volta di persona delle persone che avete visto negli ultimi due anni esclusivamente a video io lo chiamo lilliput siamo tutti grandi uguali tutti e ti sembra di riconoscere la persona e a video la riconosci la trovi in presenza e non sai che è lei è terribile questo passaggio perché veramente è terribile l'altra cosa che ci portiamo dietro è la sicurezza allora viaggiando anche prima di questi eventi ci siamo sempre sentiti un po' insicuri andavi in un luogo che non era il tuo le prime volte che andavi in luoghi molto lontani e magari anche difficili per il sentito dire eri in difficoltà ecco oggi dalla pandemia ci portiamo dietro il fatto che la sicurezza nelle sue componenti di security e di safety è un fatto importante di un viaggio di lavoro si lega totalmente noi abbiamo bisogno che le figure dei travel manager con le figure dei security manager con servizi professionali che seguono le persone durante i loro viaggi lavorino sempre più assieme dico un'ultima mezza cosa ma non è mezza perché è una diminuzio è mezza perché c'era già prima della pandemia allora ci stiamo portando dietro oggi come l'ascito ma che è un l'ascito storico uno il bisogno di viaggiare delle persone e per bisogno non intendo la necessità proprio il bisogno il bisogno fisico di andare verso i clienti di vederli di capire in che ambiente si muovono per uno che fa un lavoro da banca capire un po' stamattina parlava dei capannoni il nostro Stefano Barrese capire i capannoni che l'imprenditore ha e dove li ha è un fatto fondamentale quello in video non lo vedi questo è un passaggio l'altra cosa un po' negativa dico io che ci portiamo dietro da questo periodo sono i prezzi dove di fatto alcune parti sono giustificabili e in questo guardo un po' anche i vettori altre lo sono un po' meno no? Allora è certo che si sono complicati si sono complicate tante dimensioni ma vedere prezzi che di botto aumentavano con percentuali a tre cifre è qualcosa che ti lascia un po' basito no? Quest'estate con il mio staff ragionavamo su delle persone che dovevamo spostare da Milano a New York e per andare a New York quando prima trovavo dei biglietti a mille euro eh novemila euro cioè ragazzi è una roba che percentualmente diventa preoccupante per dire cosa con questo che comunque tengano presente tutti nella filiera ed è importante tenerlo presente che avete in concorrenza i bilanci delle società clienti veramente il rischio è che le società clienti ridiano una spinta verso tecnologie verso altri modi di lavorare che sono un po' quelli che oggi ci stanno portando a una diversità di visione su tantissimi aspetti anche in Tesa San Paolo sta facendo un percorso dove di fatto strutturalmente si lavorerà in parte in home working e in parte in azienda con una scrivania che non è più la tua ma che prenoterai giorno dopo giorno quando andrai in azienda allora ci sono tantissime cose che bisogna mettere insieme e tenere presenti per poter affrontare questo mondo nuovo e questo futuro effettivamente l'elemento pricing può essere quello di rimente sul intraprendere o meno un viaggio questo potrebbe cambiare uno scenario futuro anche nei numeri Massimo di Pasquale la TMC in questo ecosistema abbiamo sentito abbiamo parlato di automazione abbiamo parlato di piattaforme di dati di possibilità che questi siano resi facilmente leggibili per offrire risposte personalizzate la TMC in questo ecosistema come si colloca? buonasera a tutti innanzitutto tantissimi spunti ho sentito veramente tantissimi spunti e tantissime idee rispetto al panel la TMC il nostro ruolo è sicuramente un ruolo complesso la complessità sicuramente è data da da che cosa? perché noi noi della TMC dobbiamo fare la sintesi la sintesi di una serie di offerte multicanale noi abbiamo i rappresentanti di Amadeus Travelport per l'amor di Dio ma guardate che tutto non si trova là dentro cioè adesso il mondo delle aziende ha bisogno ha bisogno di avere prodotti che vanno al di là al di là di quello che noi possiamo trovare all'interno dei GDS assolutamente fondamentale assolutamente importante e così via e cosa voglio dire? voglio dire che noi dobbiamo fare la sintesi perché i nostri clienti hanno bisogno di risposte veloci economiche economiche ok che rispondono alla travel policy cioè non cose banali e banali questi sono dei compiti un compito assolutamente arduo da poter portare avanti come lo facciamo? Lo facciamo con quello che abbiamo sempre in testa che è la vision la vision vuol dire cercare di avere una visione del futuro cercare di anticipare i tempi e quindi cercare di avere delle risposte pronte noi già da dieci anni undici anni abbiamo messo su per i nostri operatori una sorta di middle office dove i nostri operatori possono andare a come voglio dire a trovare tutte le risposte del nostro cliente perché se noi solo pensiamo a tutto il mondo dei GDS a tutto il mondo delle WFR a tutto vogliamo parlare dell'NDC non ne parliamo dell'NDC Paola non ne parliamo dell'NDC poi parliamo tutta la politica di pricing e quindi tutto il cash advance vogliamo parlare dei Carnet ok voi immaginate che noi prima stavamo stavamo colorando un mondo bellissimo ok lo stavamo colorando ma le TMC hanno veramente un compito arduo e quindi ci vuole grande tecnologia investimenti tantissimi investimenti faccio solo e poi investimenti visione tanta formazione professionale faccio solo parlo un attimo di sicurezza ho sentito parlo di sicurezza di l'accompagnamento e l'assistenza ai clienti abbiamo parlato di pandemia ok e quindi quello che è successo nel 2020 nel 2021 per fortuna 22 ci siamo un po' rilassati no allora 20-21 ne parlava Rispoli dicendo attenzione voli cancellati riprotezioni noi avevamo passeggeri che partivano andavano in transito da qualche parte il giorno due ore prima al paese aveva cambiato la regolamentazione sanitaria e quello rimaneva lì in aeroporto bisognava riportarlo quindi grandissima assistenza poi praticamente quindi tutta questa attività è stata tutta voglio dire ribaltata verso le agenzie di viaggio perché dall'altra parte tu c'hai i tuoi clienti e quindi i tuoi clienti che vogliono avere informazioni e tu che devi essere pronto a dargli tecnologie 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 dall'altra parte siamo usciti dalla situazione pandemica e siamo arrivati alla migrazione di massa perché prima ne parlavamo personale specializzato c'è stata la migrazione di massa ok su tutta la filiera perché e quindi noi noi siamo sempre a contatto con i clienti no e quindi migrazione di massa personale specializzato scomparso devo capire dove sono andati a finire in tutte e altre industrie probabilmente perché l'hotellerie non ha personale e le compagniere non ha personale di board di volo e di terra anche noi abbiamo fatto tanta fatica cioè i car rental non avevano più le macchine cioè è diventato un delirio questa roba qua ok facciamo solo qualche qualche dato scusate dal primo aprile al 30 giugno noi abbiamo avuto una roba come 16 milioni di passeggeri di posti aeree in meno ok sull'offerta EMEA parlo di EMEA solo in Italia in 11 giorni ne abbiamo fatti fuori un milione e 3 e secondo voi tutta l'inefficienza dove è arrivata? è arrivata sull'agenzia di viaggio e quindi che cosa abbiamo dovuto fare e devo dire la verità e devo dire la verità e qui faccio un plauso a tutta l'organizzazione della UVET che ha retto ha retto veramente l'impatto e quindi tutta l'organizzazione tutta la filiera ha veramente retto un impatto pazzesco ok perché voi non immaginate quante telefonate possono essere arrivate in quei periodi non lo immaginate noi pensiamo alle tecnologie no abbiamo il però il controllo no però i canali sono tanti non sono quelli solo del GDS sono i canali del web sono i canali dei consolidatori sono i canali delle compagnie delle compagnie low cost che sono assolutamente fuori contesto no ok e quindi sappiamo la politica Ryanair lasciamo perdere no rispetto ai nostri clienti quindi e che cosa devo dire devo dire devo ringraziare anche voglio dire il nostro presidente che ha avuto sempre una visione di investimento sulle tecnologie i nostri operatori sono riusciti ad affrontare questa situazione che è stata una situazione drammatica drammatica però abbiamo retto botta abbiamo retto botta ci siamo riusciti e il nostro compito è proprio quello no quello di sintetizzare beh detto questo no la un altro elemento su cui dobbiamo pensare dobbiamo sempre ragionare è che il nostro obiettivo è quello di far far saving ai nostri clienti parlavamo di tariffe Antonio e quindi parlavamo di tariffe che sono aumentate del 70 80 90% ma guardate che è un problema anche per noi è un problema anche per noi perché l'impatto l'impatto dell'aumento delle tariffe è come voglio dire su un'agenzia di via su una TMC come la nostra e quindi l'impatto di quell'aumento delle tariffe è sempre un impatto rispetto alle proposte che tu devi fare ai tuoi clienti no e dall'altra parte ma scusa aumentato del 30 al 40 al 50% rivedi la policy ma ci sono organizzazioni che non è che rivedono la policy in due giorni eh c'è bisogno di no un processo lungo e quindi questo è un pochino la sintesi se vogliamo parlare di saving io devo dire che il saving si costruisce non su quello che scusate è quello che è il costo del servizio di un'agenzia vale il 5% 4% il vero saving la vera la vera sfida che dobbiamo che dobbiamo cogliere nel prossimo futuro è ritornare al concetto di cerchiamo di capire quale sono quei processi che possiamo migliorare e cercare di gestire tutta la fase di costi diretti e indiretti ok e quindi essere là fare lavorare sulle integrazioni mettere su sistemi di sell booking tool avvicinare la nostra proposta più da un mondo B2B a un mondo B2C ci stiamo muovendo così ci stiamo muovendo così poi se vuoi poi parleremo anche no degli strumenti che 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 possiamo mettere a disposizione su cui stiamo su cui stiamo lavorando e e quindi un altro elemento fondamentale all'interno del concetto del saving sono proprio le forme di pagamento sono importantissime abbiamo letto oggi dei dati 12% di inflazione il costo del denaro che è schizzato le agenzie di viaggio e le TMC che hanno numeri enormi numeri enormi fino a due tre anni fa facevano da banca facevamo veramente la sostituto di imposta no ok facciamo la banca sta cambiando sta cambiando totalmente quindi assolutamente le forme di pagamento arrivano nuovi attori ok le forme di pagamento sono fondamentali per tutto il processo perché noi dobbiamo continuare a ragionare sui processi end to end noi dobbiamo prendere quel passeggero da quando sta pensando di fare una trasferta a quando ritorna a casa e rendi conto della sua trasferta questo è il ruolo della TMC e questo è il ruolo che noi ci vogliamo ci siamo dati come obiettivo e qui leggo affondare o navigare navighiamo e navighiamo a gonfie vele Antonio ci ha fatto un quadro a 360 gradi veramente sul travel in realtà oltre l'aspetto della TMC e delle agenzie vero problema sono quei costi indiretti che sfuggono a quella logica del tempo di cui parlava anche Paola Di Filippo perché quel tempo ha un costo in termini aziendali quindi non è una cosa tralasciabile mentre altri sono incomprimibili è quello magari è il futuro Paola una trasferta non gestita non gestita uno studio di McKinsey di un po' di anni fa diceva che costava 78 dollari per una trasferta non gestita vuol dire non gestita in maniera automatica ok quindi adesso devo dire la verità che abbiamo raggiunto un buon livello ma siccome prima parlavamo di piccole e medie imprese ok c'è tutto quel segmento là che ancora in termini di digitalizzazione è indietro è molto indietro ok una industria partita presto ma che poi non ha tenuto non solo non ha tenuto il passo ma non ha anticipato le tendenze perché oramai tenere il passo siamo già in ritardo siamo assolutamente siamo già in ritardo considerate però che c'è anche un altro elemento sul concetto della digitalizzazione dei processi l'Italia è particolare l'Italia non è la Francia dove abbiamo SNSF che viaggia al 60-70% sul traffico nazionale che tutto è prenotabile via GDS e così via dove tutti i passeggeri hanno una carta di credito acquistano i loro viaggi in maniera autonoma dove ci sono sistemi di expenses e di gestione di note spese integrate l'Italia è particolare noi abbiamo ancora prodotti un po' slegati da quelle che sono i grandi i grandi diciamo di quello che che è il mondo dei GDS che sono per noi fondamentali certamente e quindi è particolare senza parlare anche dalla parte fiscale Massimo ti devo arginare perché se apriamo anche la scenario fiscale credo che poi io lo sapevo io stavo aspettando questo momento io stavo aspettando questo momento ok è arrivato inizierei con il nostro secondo giro di domande vi chiedo veramente di essere sintetici perché se no i nostri colleghi del panel successivo si amareggiano ecco non è giusto Tommaso Fumelli a questo punto che cosa si aspetta l'azienda e il viaggiatore da una compagnia aerea moderna allora per noi il cliente è centrale nella strategia di E-Termis così come è centrale anche l'azienda noi di fatto vogliamo essere il vettore di riferimento per le aziende italiane lo siamo già di natura per la conformità del network abbiamo 18 collegamenti domestici da Roma e Fiumicino 12 da Linate abbiamo avuto collegamenti internazionali su Europa Nord Africa e Israele e 9 destrezioni intercontinentali per cui io di fatto siamo il vettore che in Italia dà più opportunità di network e poi abbiamo un'offerta modulare per le aziende che è importante diciamo l'offerta global per le grandi aziende l'offerta corporate per le aziende locali così come le small e medium enterprises per cui vogliamo di fatto essere noi un po' il vettore di trainante di riferimento per tutto il mondo corporate è una sfida importante stiamo lanciando progetti nuovi recentemente abbiamo lanciato il programma volare che si estende i benefici anche ai dipendenti dell'azienda per cui è un plus un plus perché il dipendente dell'azienda di fatto può soffrire di alcuni servizi addizionali come il fast track lo sky priority negli aeroporti oltre a che accumulare anche punti in più sulle proprie tessere questo è un beneficio diciamo bivalente per l'azienda e per il dipendente qui c'è tutto un processo di sviluppo di prodotto per le aziende che noi vogliamo portare avanti nell'ottica diciamo del piano industriale sicuramente questo avrà un ruolo centrale un argomento quello del programma di fidelizzazione che meriterebbe uno scenario a parte non ce lo possiamo permettere in questo momento Damiano Sabatino si sente parlare per oramai da un decennio abbondante di questa new distribution che è proprio che secondo me tanto new non è più ci fai molto brevemente un punto però su questa NDC perché se ne parla comunque rimane centrale nella tecnologia la mia naturalmente era una provocazione cerco di essere rapido ma il tema è ampio comunque voglio ringraziare Massimo Di Pasquale per aver detto tre volte che c'è molto al di là del GDS però almeno una volta che GDS sono fondamentali per voi quindi comunque insomma tre a uno poi devi recuperare dopo NDC è sicuramente un concetto innovativo nel travel in realtà è quello che appunto altre industrie hanno già fatto cioè il pensare alla distribuzione dei contenuti in maniera più interoperabile più dinamica NDC se noi lo vediamo da un punto di vista di sistema quindi dimentichiamoci di essere GDS agenzie e quant'altro è il modo migliore per un fornitore di contenuti di distribuire il proprio contenuto in maniera dinamica quindi con un pricing dinamico superando quelle come dire rigidità del sistema tariffario che è veramente legacy che ha più di 50 anni quindi è un per superare una sorta di compartimenti nell'ambito della distribuzione che vanno poi a beneficio del viaggiatore finale questo è uno dei principi fondanti molti direi IT advisory e consulenti hanno presentato alle compagnie NDC come un'opportunità di saving per i propri sistemi distributivi saranno amaramente delusi dal risultato finale perché comunque l'implementazione di NDC non è affatto qualcosa che si può mettere in campo a costi contenuti ha il costo che ha nel senso che è uno sviluppo tecnologico di back end di front end quindi ci sono tante componenti che vanno sviluppate quindi il penso che tutte le aziende di tecnologia e le piattaforme siano ovviamente favorevoli a questa avventura partita molti anni fa ancora oggi NDC e One Order che sono i due programmi di IATA volti a semplificare l'aspetto distributivo non sono ancora nello stadio di maturità che sicuramente raggiungeranno e a quel punto già come dicevo pricing dinamico più di 20-25 compagnie hanno già la possibilità di fare questo pricing dinamico quindi di formulare offerte molto più veloci molto più rispondenti alla domanda in quel momento NDC peraltro dovrebbe essere la la diciamo la modalità che porta il programma la filosofia che può portare in questo settore la cosa che secondo me personalmente è la cosa più necessaria cioè la standardizzazione cioè le tecnologie l'interoperabilità fra i sistemi si può mettere in atto quando c'è una standardizzazione di formati di contenuti di nomenclatura adesso rubo 40 secondi per leggere una lista di quella che è fondamentalmente la classe della cabina dell'aereo che è fra la business e l'economy ti prego ti crediamo sulla parola sono 28 modi 28 modi diversi già mi spaventano i 28 sono 28 modi diversi per dire la stessa cosa quindi è chiaro che un un'uniformità di linguaggio ma qui potremmo parlare anche di comunicazione che è un altro grande problema però c'è una che si chiama HotSit che è bellissima già di questa e anche una si chiama Economy Fiesta Plus quindi Gabriele Rispoli abbiamo visto i modelli di acquisto sono cambiati ci sono tanti attori in qualche modo è un puzzle che va coordinato quanto sono importanti le partnership mi piace molto l'accostamento di evoluzione a partnership soprattutto quando si parla del nuovo viaggiatore o del nuovo viaggiatore business travel proprio perché innovazione non si può fare da soli per portare innovazione sono necessarie i partnership e approfitto per parlare di tre partnership che Amadeus ha messo in campo su tre anche esigenze o necessità diciamo del nuovo viaggiatore a cui facevi riferimento il primo è adesso ho deciso di investire su Choose Choose è un'azienda di diciamo di ingegneria climatica non è un'azienda fatta diciamo di attivisti nel settore dell'ambiente con tutto rispetto ai attivisti ma sono ingegneri dell'ambiente e scienziati del clima questo perché la sostenibilità ne abbiamo sentito parlare durante tutta la giornata è un elemento fondamentale che è entrato ormai nella coscienza del viaggiatore e delle aziende c'è una ricerca fatta da WTTC che dimostra che l'83% dei viaggiatori di business ritengono la sostenibilità come un elemento fondamentale del viaggio e più del 70% si aspetta che la filiera porti delle innovazioni in questo e delle proposte concrete nello specifico CHOOSE grazie a questa collaborazione c'è la possibilità di entrare nel cellbooking tool SIDRIC e di avere direttamente la possibilità di avere accesso non soltanto all'informazione di quello che è l'impatto ambientale del viaggio in tutte le sue fasi quindi end to end ma anche la possibilità di avere un accesso facile e immediato a elementi di compensazione di quelle che sono le emissioni che vengono prodotte durante il viaggio questa era una parte è un esempio di parte con un'azienda nuova ne posso fare un'altra anche per rispondere un po' per dare uno spunto a Di Pasquale sul fatto dei servizi che si possono trovare all'interno del GDS o attraverso diciamo un servo in tutti un GDS che è una parte scipe fatta con Caru Caru anche questa è una nuova una nuova azienda diciamo di mobilità auto sempre attraverso questa questa partnership il cliente entra il viaggiatore o l'agenzia entra dentro il servo in Tula e la possibilità non solo di acquistare diciamo corse auto con auto diverse prezzi diversi ma anche scegliere l'impatto sostenibile di ogni corsa che chiede scegliere macchine ibride scegliere macchine elettriche quindi allarga diciamo la possibilità di scelta su un tema come la sostenibilità che è fondamentale perché quello che si aspetta un viaggiatore oggi è di avere questo elemento di ritrovarlo nelle proposte che gli vengono fatte chiudo con una parte perché forse è quella più importante che è quella di Amadeus con Microsoft non soltanto per quanto riguarda il tema diciamo del cloud e quindi della scalabilità e di dove si portano diciamo lo store legge delle formazioni ma anche questo risponde a quello che abbiamo sentito anche durante la giornata cioè di avere un acquisto del viaggio business molto più simile a quello del viaggio che si fa tutti i giorni per cui un'esigenza del nuovo viaggiatore attraverso questa partecipi con Microsoft l'organizzazione della trasferta può avvenire in una maniera condivisa con i colleghi interconnessa e soprattutto all'interno degli stessi spazi che vengono utilizzati all'interno dell'azienda tutti i giorni da parte del viaggiatore che sono Outlook e Teams quindi anche qui si risponde a un'esigenza di un viaggiatore nuovo che cerca una condivisione e una interconnessione diversa quindi in sintesi le TMC sono chiamate a rispondere con servizi sempre maggiori a livello di numero e sempre diversi l'uno dall'altro ma temi come la sostenibilità o la user experience diventeranno fondamentali nella scelta da parte dell'azienda della loro agenzia allora quando ci c'è anche una comunità di valori insieme per cui il valore della sostenibilità o il valore della user experience diventerà anche un elemento che mentre fino a ieri poteva essere considerato un nice web comincerà a diventare anche un elemento con il quale verranno valutate certe collaborazioni e certi servizi da parte dell'azienda laddove avranno la possibilità di trovare corrispondenza in questi valori perché la sostenibilità sta iniziando a diventare sempre più un valore per alcune aziende e quindi la partnership per alcune aziende come quella dell'agenzia dovrà essere ricercata anche in corrispondenza di questo nuovo valore e proprio di sostenibilità tratterai il panel successivo al nostro molto più nel dettaglio tecnologia che va quindi oltre l'aspetto meramente travel Paola De Filippo e lo Human Touch che fine fa in tutto questo? Lo Human Touch partirei da un ricordo che mi ha sbloccato Massimo quando a marzo 2020 l'Italia è entrata in lockdown mi trovavo in Sudafrica a 9000 km da mio figlio che nel frattempo era in lockdown e la tecnologia indubbiamente mi è venuta in aiuto non solo nel comunicare le mie necessità ma nel ricevere le informazioni ma è il tocco umano della TMC che in quel caso mi ha supportata e della compagnia di Bagliera chiedo scusa per l'interruzione un tocco e una professionalità che troppo spesso sono state anche dimenticate o comunque poco valorizzate in questi anni hai assolutamente ragione veramente poco valorizzate perché l'importanza degli esperti l'abbiamo veramente toccata con mano in questa in questa occasione ovvero come fare a riportare milioni di viaggiatori in assoluta sicurezza in piena pandemia con una situazione completamente nuova che nessuno conosceva la tecnologia indubbiamente è essenziale nel supportare questo ma l'intelligenza umana il ragionamento umano l'empatia stessa l'esperto la persona dietro alla tecnologia che la utilizza che la sa utilizzare nel modo opportuno quello fa la differenza dunque si è cambiato tanto è cambiato tanto perché il mondo si evolve perché le nuove generazioni agiscono e reagiscono alla tecnologia in maniera completamente diversa noi abbiamo qui un'età media che è ben più alta rispetto al viaggiatore del futuro che invece è nato con la tecnologia tra le dita e quindi si aspetta a proposito di tempi una velocità e una fruibilità ben diversa in questo senso guarda faccio un nuovo di nuovo richiamo alla intelligenza artificiale e al machine learning il machine learning ci permette di imparare imparare da quelle che sono le attività le azioni che fa il viaggiatore e di prevedire quello che sarà quella che saranno le sue necessità in questo caso quindi attraverso appunto travel AI intelligenza artificiale machine learning quello che possiamo fornire ai nostri partner visto che parliamo anche di partnership è proprio questo una conoscenza anteriore a quella che sarà la richiesta quindi la possibilità di mettere insieme anche migliaia di offerte che però prevedano già all'interno quella che è la necessità del nostro viaggiatore la conoscenza del viaggiatore assolutamente sì molto umanistico quello della conoscenza molto poco tecnologico non solo la conoscenza del viaggiatore non è solo il posto finestrino il posto corridoio c'è c'è tanto altro di più che a volte il viaggiatore stesso non sa e possiamo abilitare gli agenti di viaggio ma anche le compagniere nel sapere quella che è la necessità prima ancora che lo sappia lo stesso viaggiatore corrado sod a questo punto quanto conta l'esperienza del viaggiatore e te lo chiedo come diciamo sistema di pagamento che è pagare alla fine sempre un po' il momento cruciale ma direi abbiamo appena completato da qualche settimana una survey interna sui clienti proprio sul business travel quindi vi do qualche elemento che secondo me è molto interessante che però partono poi da quello che abbiamo sentito prima quindi il primo posto c'è il duty of care quindi sicurezza fisica ed emotiva del cliente quindi assicurare il benesse durante tutto il giorno e vi faccio due esempi uno in pandemia uno che invece non ha poco a che fare con la pandemia il primo è che noi sui prodotti premium abbiamo esteso le assicurazioni ai casi covid e quindi abbiamo avuto un riscontro da parte dei travel manager e dei viaggiatori perché adesso sembra banale dirlo ma in quei giorni credo al di là della nostra assicurazione era veramente complesso capire cosa fare e come fare se qualcuno aveva prenotato un volo ed era affetto dal covid e il volo veniva cancellato quindi questo ci ha dato un grosso riscontro perché al di là del beneficio del viaggiatore poi ha dato al travel manager ancora quel ruolo che dicevamo prima perché poi alla fine il travel manager gestisce la responsabilità degli employee dell'azienda il secondo non farò il nome dell'azienda della nostra azienda e dell'agenzia che insomma è coinvolta ecco però abbiamo avuto un caso ma questo è semplicemente un esempio per farci riflettere su quanto sia importante il duty of care di un employee di una grande azienda che lavorava in Asia che ha dovuto subire un intervento chirurgico e doveva essere urgente quindi però per procedere l'intervento chirurgico ecco qui ci lamentiamo spesso l'Italia ma in Asia c'era bisogno di fare un pagamento urgente e quindi triangolando tra l'agenzia noi e l'azienda abbiamo utilizzato poi gli strumenti di pagamento Amex per effettuare il pagamento e dar via all'operazione e quindi pensiamo a quanto sia importante se poi la sicurezza il travel manager ha responsabilità anche della sicurezza fisica del viaggiatore quindi duty of care primo elemento secondo elemento è il pleasure quindi parliamo di pleasure del business e se guardiamo a tutte anche le survey che stiamo facendo e confrontiamo i millennials con i baby boomers c'è un interesse totalmente diverso prima si cercava un albergo che era vicino al cliente vicino al fornitore che aveva delle facilities di business oggi è diciamo soprattutto per i millennials è diverso quindi tendono a scegliere degli alberghi o delle home stay che sono in centro quindi la maggior parte cerca anche non alberghi con una come di ambiente più familiare sono interessati al cosa c'è dopo l'esperienza di business quindi significa che molti employee prolungano lo stay dopo l'esperienza di business e quindi questo significa avere poi delle soluzioni che sono flessibili perché il travel manager evidentemente deve separare quello che è business da quello che è personal e quindi le nostre soluzioni lo fanno quindi le nostre carte virtuali fanno questo e c'è anche tutto il tema come dire di come poi gestire l'esperienza di business che viene arricchita in questo come dire nella discussione con i nostri partner hotel stiamo vedendo il design dei prossimi anni come li stanno disegnando gli alberghi anche di business ecco il centro business ormai è poca rilevanza perché nessuno stampa più il wifi è una commodity però c'è bisogno di spazi di spazi che seppur per business sono spazi personal quindi non è semplicemente la spa è uno spazio esperienziale in cui il cliente si rilassa in cui il cliente può fare un aperitivo tra virgolette invitando amici che non sono necessariamente business e quindi c'è questa commistione tra il business e il personal sempre più forte poi l'hai citato tu c'è l'SG soprattutto sulla parte millennials quindi una sensibilità molto più avanzata sull'aspetto ambientale sull'aspetto di inclusione sociale di governance e qui vediamo che i travel manager ci chiedono attraverso lo strumento come possiamo catturare con gli strumenti di pagamento queste informazioni che evidentemente alcuni alberghi danno qual è l'energia che utilizzo l'energia rinnovabile se no qual è il consumo appunto dell'acqua quindi tutti questi elementi che sono elementi ovviamente informazioni addizionali vanno catturati non solo a livello di policy ma anche a livello di strumenti grazie siamo veramente agli sgoccioli del tempo mi sono lasciata indietro Antonio Ceschia e Massimo Di Pasquale per veramente una sintesi da Antonio su lato appunto ufficio business unit travel manager che cosa devono fare di più o di diverso i tuoi partner e ti lancio questa domanda così poi provocatoriamente risponde io rispondo tutto quello che dice Antonio risponde così risponde Massimo ma allora cosa devono fare i partner sicuramente sviluppare nuove progettualità in funzione di queste idee che sono uscite cercando di generare altre idee che non siano legate ai legacy bibop stamattina l'ha detto no cosa ci ha fregato per cent'anni che non avevamo fatto l'auto elettrica è stata la prima auto che era stata prodotta agli inizi del novecento ci ha fregato un modo di pensare allora in questa cosa qua bisogna rielaborare il concetto di travel nell'ambito del business travel noi abbiamo un tema di talenti da attrarre lo diceva Corrado poco fa hanno altri tipi di esigenze posso dirvi il pleasure inizia quasi ad essere un concetto superato la necessità che queste persone sentono di avere pervasa la loro giornata un po' di vita lavorativa col suo benessere un po' di vita personale col suo benessere è fondamentale quindi dobbiamo riuscire le agenzie devono tornare al significato etimologico di agente che va a vendere delle soluzioni alle aziende che possono creare questi meccanismi di continuità io ho avuto tante persone che mi chiedevano durante la pandemia ma scusa ma se noi ci mettiamo d'accordo e paghiamo noi e andiamo a fare l'home working a Riccione possiamo farlo? c'è un bisogno inespresso e su quei bisogni lì dobbiamo cercare di lavorare bene per il futuro per intercettare della domanda c'è un bisogno inespresso in cui le persone si sentirebbero anche di mettere in sharing le proprie risorse e il proprio tempo anche economiche per lavorare per essere a favore loro e per essere a favore dell'azienda tema poi che è stato toccato poi passo la parola a Massimo è quello della sostenibilità allora non dimentichiamoci la pandemia ci ha fatto un po' perdere questa cosa la situazione dell'energia ci ha un po' reso difficile capire dove siamo ma dobbiamo tornare a riprendere in mano anche i temi di sostenibilità ambientale perché per un travel manager sono fondamentali per affrontare correttamente il futuro Massimo ti chiedo veramente un pensiero di sintesi di questo think tank perché sono usciti talmente tanti argomenti però paola devo dire due cose la prima è che questi signori qua che noi vediamo al nostro tavolo sono veramente i nostri partner nel senso che io continuavo a dire guardate che là dentro non ci sono tutte le informazioni ma viva Dio che ci sono nel senso che io 25 anni fa ho cominciato a lavorare in quel settore l'anno quindi ho vissuto tutto il mondo della turismatica prima si chiamava la turismatica quindi l'informatica applicata al turismo grazie alle partnership che noi abbiamo con il GDS abbiamo fatto tantissime cose e ti dico in questo 2020 2021 abbiamo fatto grandissimi investimenti sul nostro sistema di cellbooking tool che è un sistema italiano connesso ai nostri partner e quindi per noi sono fondamentali quindi non volevo Damiano dire che non troviamo tutto là ma quando parli con il mio collega di operation mi diceva Massimo mica è tutto in GDS è offline bisogna chiamarla catena e così via e quindi volevo scusarmi la sintesi è questa la sintesi che il nostro passeggero il passeggero del futuro sarà qua dentro sarà tutto mobile ok il desktop non lo utilizzeremo più perché teoricamente non ci saranno più le logge di segreteria e così via e quindi il nostro business traveler vorrà prenotare essere informato autorizzare le sue trasferte vedere quanto ha speso dei suoi viaggi non solo ma vuol fare le prenotazioni con una con un experience come voglio dire assolutamente easy ok come le fa sul web ok col mondo B2C ok e le vuole avere tutte dentro questo strumento qua ok quindi il desktop finirà è finito perché le nuove generazioni noi parlavamo dei millennium diciamo anche cominciamo anche con le generazioni Z ok e il desktop non lo toccano più saranno solo attaccati a questo strumento e quindi la sfida sarà quello di trovare delle soluzioni sempre più legate alla mobilità e quando parlo di mobilità vi faccio un esempio mi diceva un amico dice sono andato a Parigi con mio figlio e siamo arrivati in stazione e io gli ho detto prendiamo il taxi lui mi ha detto no papà prendiamo il monopattino il monopattino perché si dovevano spostare per due chilometri cosa che non sta all'interno della nostra generazione e quindi dobbiamo essere pronti tutti quanti ad avere una soluzione da dare ai nostri clienti che è all'interno di questo contesto noi abbiamo fatto tanti investimenti in questo 2020 2021 e siamo pronti nel 2023 a dire la nostra e quindi a presentare progetti di questo di questo tipo ma sei stato bravissimo io veramente ringrazio tutti voi per i contenuti e per la capacità di sintesi in questo poco tempo ringrazio naturalmente tutti voi di averci ascoltato c'è un brevissimo 5 minuti di coffee break è veramente un caffè ristretto quello che potete andare a prendere vi ringrazio ancora grazie è grazie a tutti